Musica 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 Mi sono organizzato per Milano Ma tu non mi hai detto niente come mi sono organizzato per Milano Non mi hai detto letteralmente niente Che devo organizzare? Non mi hai detto niente Che devo organizzare? Prendo uno zaino e vengo Che devo fare? Che devo organizzare? Perché non sei niente nemmeno tu Bene 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 Così mi piace All'avventura Per me possiamo anche dormire Dove capita L'importante è stare insieme Signor Kokei Fai solo che si fa Va bene E tanto basta No alla fine poi il resto E' superfluo Dove dormire Dove andare Quando andare Come partire Musica Musica Allora Wow Ah ma quanta cattiveria Basta E' già morta Ma quante cose abbiamo tirato Questa poverina Mi pare un po' cestivo Mi pare Ok ok Can you report my whole team? Risposta Jungle Gap Perché la stima del challenger E' diventato viola? E' per non farmi riconoscere Dalla polizia E' come cambiare E' come cambiare Colore della macchina Su GTA Sono andato un attimino Più giù per Controllare gli altri sistemi Controllare che funzionassero Non lo so Non lo so Farà il pro player E io farò il manager Di Dante Tra un po' Lo metto sotto C'è la games week No vabbè Prima della games week Sicuramente Allora Non vengo alla games week Se non sono in uno challenger Queste chiudere Non le faccio fare a clash Allora Non l'hai mai fatto a bot In vita tua No Non amo a bot Però Penso che mangerò la banana adesso Casualmente Sbucciata bene E' troppo matura A o Ma sono più buono A parte il fatto che Sembrava matura Ma in realtà dentro No scusami Il contrario Cioè sembrava Non sembra tanto matura in realtà Probabilmente E' la web che ti E' tutta marroncina Sì è tutta marroncina Che schifo Vabbè Che devo fare Che devo fare Che devo fare Me ne avevo già lo stesso Per questo Sono sceso dietro ragazzi Ero stufo di giocare Con i pro player coreani Perché sono troppo tossici Veramente E' inaccettabile Runano down il game Cioè Giocano Giocano come se fosse 1v1 La lane Cioè come No no Scusami La lane generalmente 1v1 Quello che vuole dire Giocano come se League of Legends Fosse 1v1 Allora sono qua Giocano tutto il tempo qua Pusciano come dei criminali Moivano dal giangher Ok go next step f E' tipo che gli dicono Ah quest'anno Fare il master E' più facile Del 70% Ah quest'anno Il master lo fanno Ah quest'anno Il gran master Lo fanno tutti Ah vabbè Quest'anno lo fanno No vabbè Quest'anno è troppo facile Fare il master No vabbè Facilissimo Stanno fare il master No vabbè Facilissimo No vabbè Facilissimo No vabbè Facilissimo Ma l'ho visto veramente Non l'ho visto veramente Quello che ho visto a Darius Cioè voglio dire Ah quest'anno ammazza Meno male ha cancellato un altro Oh Questo è proprio Unfair Non lo vedo nemmeno vedere Quel champion disgustoso Che è Kartus Allora il top player Che dice Darius Unlucky Ma perché flammano tutti Non capisco Il game è free E lo Che problemi avete ragazzi Ma perché sono così Non capisco Perché sono tossici da morire Perché sono tossici da morire Il game è free Perché sono tossici Non capisco Ormai Ormai sono triggerato ragazzi Ormai sono triggerato Non posso mutare la chat Allora ragazzi Funziona così Ho muto la chat All'inizio game O non la muto più Ormai voglio leggere La curiosità Prende il sovravento Non posso leggere Vole scrivere queste bestie Oh shit Eeeh Quanta gente Meno male che il mio champion È broken in gameplay Oh shit Ha flashato Ma è pieno di player Ma quanti erano Ma scusami Non dovrebbero essere Mid bot Jungle Perché sono tutti qua Sì bravi bravi La voi bravi Avete ragione ragazzi Bravi 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 Cercare di triggerarmi Bravi Ci siete riusciti Adesso per la tua partita Poi perdo le prossime Sono tiltato Bravi bravi Poi scendo dietro Poi mi rendete in giro Perché sono master Che era master Guarda lì 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 Questi ragazzi Sono pazzi Tante che sport fate fare Palla nuoto Polo Golf Cannottaggio Scherma Ha fatto la prova Di basket ieri La botta è morta Ma non è possibile Ma come non tiltare Non dirmi non tiltare Quando sono già tiltato No non sono tiltato Però mi fai tiltare Se invece non tiltare Quando non sono tiltato Cioè tu amplifici Stai peggiorando la situazione Vi prego Ma che sto Guarda è morto pure top Ma come si fa a giocare Ma non è playable Ma cosa fanno Cioè Ma cercano di giocare Per vincere o no No La risposta è no Non cercano di giocare Sicuramente non cercano di giocare Per vincere Cosa stanno facendo questi Com'è possibile Morino dappertutto E perdono tutte le lane Ok io ho sbagliato Early Ma poi sto Cioè ho iniziato a recuperare No Ho detto ok Cerchiamo di concentrarci Ci giochiamo Ma abbiamo sbagliato Capita Capita Che mi fanno a perdere dappertutto E a morire sempre Ogni due secondi Come fanno Dove Ma come è possibile Ma poi staranno pure flammando Guarda io non l'ho lasciato Ma sicuramente staranno pure flammando La ciliegina sulla torta Ma siamo 1-7 Ma come siamo 1-7 Ragazzi non mi ero Non mi ero reso conto Di quello che Mi sono distratto Con voi Con quelli della chat Stavamo parlando Ma siamo 1-7 Come siamo 1-7 Come facciamo essere 1-7 Lucianami La bot più forte del Pianeta 0-2-0-3 Ma come fanno Cioè le stelle Dei bronzi Lucianami Vincolo contro dei platini Probabilmente Come fanno Come fanno Ma ragazzi Non ce lascio più Ma basta Ma come è possibile Ogni game è così Ogni singolo game è così Ogni singolo game Guarda è morto Questo dovrebbe garantirmi La blue form Giusto Vabbè Ok No perché tanto sono Siamo messi bene No Siamo messi bene Siamo messi Allora Allora fammi dare La formula un altro po' Che il game è facile da vincere Questi miei teammates Splendidi Fantastici Mi serve un compagno Di squadra Mi serve ragazzi Non cinque bot Almeno uno Mezzo Datemene mezzo Ma qualcuno Cioè azione È l'unica Play of the game Emerdinger Che ruba il drago Poi uno set Per il resto Mamma mia Mamma mia E io li ho mutati Ma meno male che li ho mutati Perché se avessi letto la chat Se avessi letto la chat Basta Basta La user cube Basta Ma non si tratta di perdere la lane Cioè non è Non è perdere la lane Questo non è perdere la lane 2-8-1-11 Non è perdere la lane Cioè fare 19 morti In 29 minuti di game Non è perdere la lane Avessi l'ho perso Limitati Cioè si fossero limitati Non lo so Perdere la lane E basta Sono tiltato Aspettato Aspettato Ora vinciamo un attimo solo Dobbiamo solo trovare la canzone giusta Che potrebbe essere Questo Che potrebbe essere Siamo finito ragazzi Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Budget dark green Ma dov'è il ratto Ma era qui un secondo fa il ratto What Attenzione il derby Eccolo qua No no ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Dai ce l'ho Veramente Bravo 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 Bravissimo Sono 4 vittoria di fila Ma abbiamo ritrovato la build Ragazzi Io non ci credevate Abbiamo trovato la build perfetta Abbiamo trovato il mindset Abbiamo trovato tutto quello che c'era per scalare Sono 4 vittoria di fila Giocate bene Tranne questa qui che ho trullicchiato Perché sembrava pre-win Quindi Tutto a posto Tutto a posto Abbiamo trovato il nostro canale 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 Abbiamo trovato il nostro canale